Parliamo oggi del 3, 4 e 5 giorni durante il quale esiterrà la terza edizione della performance itinerante di musica, arte, cinema, fotografia e poesia durante il quale tutti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Colle Corvino e i ragazzi delle scuole che fanno parte della rete Le Trame dell'Arte di cui noi siamo scuola capofila presenteranno le loro attività frutto di una progettualità. Questa progettualità si è classificata prima a livello nazionale ottenendo i finanziamenti del piano triennale delle arti promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione. Possiamo realizzare questa manifestazione che occuperà tutte le piazze dei comuni di Colle Corvino e di Picciano proprio grazie a una collaborazione con gli enti locali, con le amministrazioni comunali, con le diverse scuole che fanno parte della nostra rete, si tratta di 10 istituti comprensivi e scuole secondarie di secondo grado di tutta l'area vestina e anche grazie alla collaborazione con il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara con l'associazione Camerton che è un ente accreditato e riconosciuto dal Ministero Piano Triennale delle Arti. Porto il saluto del Sindaco e di tutta l'amministrazione comunale di Colle Corvino. Io come ex sindaco e oggi vice sindaco non posso che essere soddisfatto che dopo due anni di fermo si ritorni a questa manifestazione importante, le trame dell'arte, perché è una manifestazione, questo ricorre il terzo anno, i primi due anni sono stati bellissimi, importantissimi sotto il profilo culturale e socievole anche dei ragazzi perché c'è uno scambio interculturale tra diverse scuole del comprensorio pescarese.